Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti ad un'altra lezione del modulo 2 del corso di semiotica AL. Nelle ultime lezioni ci siamo occupati della semiotica generativa, anche detta grammatica narrativa, elaborata dal linguista e semiologo franco-lituano Algirdas Greimas. Prima di tutto bisogna dire che la teoria semiotica di Greimas rappresenta la conclusione, quindi il culmine di un lungo percorso di studio e di ricerca che si è sviluppato nel corso di diversi anni. Lo abbiamo visto nella prima lezione dedicata a questo studioso. Se vi ricordate, dal primo studio di Greimas pubblicato nel 1966 intitolato La semantica strutturale, ai suoi ultimi lavori, per esempio del senso 2, oppure dell'imperfezione, oppure uno dei suoi ultimi lavori, semiotica delle passioni, quindi dal 1966 agli anni 80 fino alla fine degli anni 80 per arrivare agli anni 90 sono passati ovviamente tantissimi anni. Dunque, quello che vi propongo in queste lezioni rappresenta essenzialmente una sintesi del pensiero di Greimas. Ed è anche ovvio che questa teoria richiederebbe, per essere discussa in dettaglio, molto più tempo e molto più spazio. Come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, allora, Greimas rielabora delle intuizioni di alcuni altri studiosi come, per esempio, abbiamo visto Vladimir Propp e in particolare lo studio di Vladimir Propp dedicato alle fiabe, che si chiama Morfologia della fiaba. Avrete notato, leggendo il materiale di studio, che Greimas utilizza una terminologia piuttosto astratta e formale. E questa terminologia, ai principianti, in genere, risulta abbastanza ostica. Quindi un metalinguaggio, una terminologia molto difficile. A tante, percorso generativo del senso, programma narrativo, competenza, performanza, enunciati di stato, enunciati del fare e così via, sono tutti termini tecnici che fanno parte della terminologia semiotica elaborata da Greimas. Quindi, in parole povere, quella di Greimas è una teoria fortemente formalizzata. Vi ricordate quando, durante le prime lezioni del modulo 2, abbiamo parlato della funzione metalinguistica del linguaggio di Roman Jacobson? In quella parte del corso avevamo detto che il metalinguaggio è un linguaggio specifico i cui termini hanno due caratteristiche di base, due caratteristiche essenziali, che i termini usati sono prima di tutto univoci e che quei termini sono anche interdefiniti. Questo è essenzialmente quello che fa Greimas con la sua grammatica narrativa. In altre parole, Greimas usa un metalinguaggio scientifico per definire in modo univoco e interdefinito la sua teoria della narratività. Come sentite, stiamo registrando questa lezione nel mezzo di un temporale. Dunque, a questo scopo, Greimas impiega una determinata terminologia, quindi una terminologia ben precisa. Detto ciò, mi preme adesso riprendere alcuni dei concetti introdotti nelle lezioni precedenti al fine di agevolare la comprensione della semiotica narrativa di Greimas e soprattutto soffermarmi su alcuni concetti che potrebbero risultare difficili. Con l'occasione, voglio anche ringraziare tutti quelli che mi hanno formulato delle domande sugli argomenti trattati in precedenza, sperando di dare delle risposte esaustive e il più possibile chiare. Partiamo allora proprio da una di queste domande che è relativa al quadrato semiotico. Prima di tutto, che cos'è il quadrato semiotico? Allora, abbiamo detto che il quadrato semiotico è la struttura elementare della significazione. Se vogliamo usare la definizione fornita e elaborata da Greimas stesso, allora il quadrato semiotico è la rappresentazione visiva dell'articolazione logica di una categoria semantica qualunque. Ma semplifichiamo subito questo concetto. In parole molto più semplici possiamo dire che il quadrato semiotico rappresenta uno schema che serve allo studioso per che cosa? Per analizzare o studiare un testo nel modo più astratto possibile. Se vi ricordate, infatti, nelle lezioni precedenti si era detto che il quadrato semiotico si colloca in quel quadrante del percorso generativo del senso che è infatti il livello più astratto possibile. Quindi, il quadrato semiotico, dove si collocherà all'interno di questo schema che rappresenta il percorso generativo del senso di Greimas? Allora, il quadrato semiotico si collocherà qui, quindi nelle strutture semionarrative e in modo particolare nel livello profondo delle strutture semionarrative che, appunto, è il livello più astratto. Dunque, collocheremo il quadrato semiotico nella sua accezione statica, nella semantica fondamentale e il quadrato semiotico nella sua dimensione dinamica, nella sintassi fondamentale. Detto ciò, partiamo subito con un esempio in modo tale da applicare questo concetto ad un caso di studio particolare. Allora, prendiamo l'esempio della passione di Cristo nella Bibbia e costruiamo il quadrato semiotico per spiegare, in termini astratti, dunque, la storia della passione di Cristo. Come sapete, Gesù passa attraverso una serie di stati. Abbiamo la nascita, la crocefissione, la morte, la resurrezione. Dunque, questi stati che fanno parte della passione di Cristo andrebbero, allora, individuati in vari punti del quadrato semiotico. Come sapete, la base, quindi il punto di partenza per costruire un quadrato semiotico è una opposizione semantica. Dunque, dobbiamo porci la domanda. In questo caso, nel caso della passione di Cristo, qual è l'opposizione di partenza, quindi l'opposizione semantica di partenza del quadrato semiotico? L'opposizione semantica di partenza sarà vita-morte. Il perché di questa opposizione iniziale è evidente. Innanzitutto, dunque, il quadrato si forma con i contrari, vita e morte, e poi con l'aggiunta dei contraddittori. Passiamo alla costruzione, allora, del nostro quadrato semiotico. Abbiamo da un lato i contrari, quindi, come sapete, vita e morte, e aggiungiamo i nostri contraddittori. Quindi, vita sarà non vita e morte diventerà non morte. Adesso, il punto è di vedere, allora, dove collocare i vari stati, che abbiamo descritto in precedenza, i vari stati della passione di Cristo. Allora, per primo abbiamo la natività, quindi la nascita di Cristo, che lo rende uomo, quindi Cristo diventa incarnazione di Dio sulla Terra. Quindi, Cristo è un essere umano in carne ed ossa. Dove si colloca questa prima fase della vita di Cristo? Si colloca nel punto della vita del quadrato, quindi, nel punto della vita, inseriamo la nascita di Cristo. Dopodiché, come sapete, Cristo viene crocefisso. Quindi, innanzitutto, precisiamo che Cristo, prima di morire, agonizza sulla croce. Allora, dove collocheremo questo stadio della passione di Cristo? Cristo, quindi, Cristo che agonizza sulla croce. Nella vita, nella morte, nella non vita, nella non morte. Allora, collocheremo Cristo agonizzante sulla croce, nel punto del quadrato semiotico della non vita. Quindi, crocefissione, in particolare, Gesù agonizzante sulla croce. Viene individuato nel punto della non vita. Poi, sappiamo che Cristo viene trafitto dalla lancia di un soldato romano e, dopo l'ultimo respiro, viene messo in un sepolcro. Quindi, questa è, naturalmente, la fase che verrà collocata sul nostro quadrato semiotico nel punto della morte. Quindi, morte e sepoltura. Infine, però, prima che Cristo rinasca, c'è la resurrezione, che, badate bene, è uno stadio intermedio. Ecco perché ci servono i contraddittori per descrivere questi stati intermedi. Quindi, durante il processo della resurrezione, Cristo non è né vivo né morto. Quindi non è né vivo né morto. Ecco allora perché collocheremo questa fase del processo della resurrezione all'interno della passione di Cristo nel punto del quadrato della non morte. Infine, poi, nel momento in cui Cristo esce dal sepolcro, il cerchio si chiude. E, semplificando, possiamo dire che ritorniamo al punto del quadrato indicato dal termine vita. Quindi questo è un esempio che illustra il funzionamento di base del quadrato semiotico, individuando quali punti del quadrato semiotico descrivono, in questo caso, la passione di Cristo. Quindi penso che sia un esempio abbastanza chiaro di come funziona questo quadrato. ma andiamo avanti perché nel corso delle ultime lezioni avevamo anche parlato di un altro esempio di quadrato semiotico e, in particolare, del sistema delle ingiunzioni. avevamo portato questo esempio, appunto, il sistema delle ingiunzioni, come un'altra illustrazione del quadrato semiotico. Dunque, il quadrato semiotico, si era detto in quella lezione, delle ingiunzioni si articola come segue. Nel punto del quadrato S1 si avranno le prescrizioni. Ora, le prescrizioni che cosa sono? Sono quelle cose che si devono fare, quindi azioni prescritte. Poi, al punto opposto del quadrato, quindi nel punto S2, avremo, invece, le interdizioni. Che cosa sono le interdizioni? Rappresentano le cose, quindi le azioni, che non si possono fare. Poi, aggiungendo i contraddittori al quadrato semiotico, avremo da un lato le non prescrizioni, che sono cose o azioni non prescritte, e avremo dall'altro lato le non interdizioni, quindi cose o azioni non interdette. Quindi, riepilogando, il sistema delle ingiunzioni è rappresentato come segue, da un lato le prescrizioni, quindi cose che si devono fare, dall'altro le interdizioni, quindi cose che non si possono fare, con i loro rispettivi contraddittori che abbiamo appena descritto. Ora, Greymasse fa diversi esempi di come si usa il sistema delle ingiunzioni. Uno di questi è rappresentato, per esempio, dai semafori, quindi l'esempio dei semafori. Allora, nei semafori, il verde significa prescrizione, quindi lo collochiamo nella casella, nell'angolo del quadrato S1. Il rosso, invece, del semaforo rappresenta una interdizione di transito e lo collocheremo in S2. Poi bisogna fare un discorso a parte per quanto riguarda il giallo, perché per il giallo del semaforo bisogna prevedere almeno due casi. Allora, quando il giallo succede al verde, significa non prescrizione. Invece, quando il giallo succede al rosso, significa non interdizione. Il giallo, poi, può anche significare entrambi, quindi sia non prescrizione che non interdizione, quando il giallo è lampeggiante. Ora, secondo Gremas, il sistema delle tipologie, delle regole, rappresentato dal sistema delle ingiunzioni, si può usare per studiare le relazioni di un gruppo umano, considerate dal punto di vista semiotico. Gremas, in particolare, fa l'esempio delle relazioni sessuali, quindi fa l'esempio del modello sociale delle relazioni sessuali. Le relazioni sessuali sono divise in due dimensioni, natura e cultura. La cultura sussume le relazioni sessuali permesse e la natura le relazioni escluse. Ora, le relazioni permesse sono codificate dalle varie società in vari modi. Dunque, la società regola le relazioni sessuali tramite la prescrizione delle relazioni matrimoniali, da un lato, e ammette dall'altro altre relazioni normali. A questi due tipi di relazioni, che sono relazioni permesse, si oppongono le relazioni interdette, come ad esempio l'incesto, e le relazioni non prescritte, e quindi le relazioni non matrimoniali. Queste relazioni sessuali variano a seconda del tipo di società. E Grémas ci dice, ad esempio, che nella società tradizionale francese gli amori coniugali sono prescritti, mentre l'incesto e l'omosessualità sono interdetti. Inoltre, in questa società tradizionale francese descritta da Grémas, questo tipo particolare di società giudica normale l'adulterio dell'uomo, quindi non interdetto, mentre considera come non prescritto l'adulterio della donna. Quindi questi sono alcuni esempi di come il sistema delle interdizioni viene applicato a un sistema particolare di relazioni, come in questo caso le relazioni sessuali e in particolar modo le relazioni sessuali della società tradizionale francese. Detto ciò, riprendiamo il discorso relativo alla teoria semiotica di Grémas. Come si era detto nelle lezioni precedenti, Grémas riprende e rielabora alcune idee e nozioni che erano state elaborate precedentemente da Vladimir Propp. In modo particolare, le sfere d'azione, quelle che nella morfologia della fiaba erano definite come sfere d'azione, diventano nella teoria semiotica di Grémas il modello attanziale. Quindi laddove nella teoria di Propp si avevano le cosiddette sfere di azione che, come ricordate, erano sette, queste vengono reinterpretate da Grémas attraverso la nozione e la teoria degli attanti che, come ricorderete, erano rappresentati da queste coppie di opposizioni, quindi soggetto-oggetto, destinante-destinatario, adiuvante e opponente. Allo stesso tempo, avevamo anche detto che quelle che in Propp erano le 31 funzioni diventano in Grémas gli enunciati narrativi. E si era detto, nell'ultima lezione, che vi sono due tipi di enunciati narrativi. L'enunciato di stato, quindi gli enunciati di stato, questo è il primo tipo, e poi gli enunciati del fare. Quindi nel prosieguo di questa lezione allora vediamo più da vicino che cosa sono gli enunciati di stato e che cosa sono gli enunciati del fare. Ora vediamo la differenza tra enunciati di stato ed enunciati del fare, perché questo punto era oggetto di un'altra delle domande formulata da una delle corsiste. Allora, facciamo innanzitutto una precisazione importante. Nella sua grammatica narrativa, Grémas propone innanzitutto di distinguere due cose. Da un lato abbiamo quello che Grémas chiama stati e dall'altro abbiamo le trasformazioni. Allora, dobbiamo capire che cosa sono gli stati e che cosa sono le trasformazioni. Attraverso la comprensione degli stati e delle trasformazioni poi passeremo a capire che cosa sono gli enunciati di stato e che cosa sono gli enunciati del fare. Dunque, gli stati sono delle situazioni in cui i soggetti si trovano in congiunzione o in disgiunzione con il loro oggetto. Che cosa sono invece le trasformazioni? Le trasformazioni rappresentano dei momenti in cui i soggetti da uno stato di disgiunzione dall'oggetto passano ad essere congiunti con l'oggetto e viceversa. Quindi sono dei momenti in cui i soggetti passano da uno stato di disgiunzione dall'oggetto ad uno stato di congiunzione con l'oggetto e viceversa. Quindi, nella grammatica narrativa dobbiamo innanzitutto distinguere stati e trasformazioni. Ma andiamo per gradi e spieghiamo questa differenza con un esempio pratico e poi ritorniamo sulla simbologia particolare quindi sui simboli che Graimas stesso usa per descrivere questi stati e queste trasformazioni. Allora, prendiamo come esempio un film e in particolare parliamo del film Lola Corre questo è il titolo in traduzione italiana è un film del regista Tom Twiker. Dunque, la trama del film Lola Corre ruota intorno a diversi personaggi e i principali sono Lola che è questa ragazza con i capelli rossi e il suo fidanzato che si chiama Manni. Allora, quello che succede è che i due giovani e in particolare il fidanzato di Lola Manni smarrisce perde una busta con dentro centomila marchi. Il film infatti è ambientato in Germania e per questo parliamo di marchi. Allora Manni smarrisce quindi perde questa busta con dentro centomila marchi perché la dimentica sul sedile di un treno. Dunque, Manni si trova nei guai perché? Perché questi soldi devono essere restituiti ad un altro personaggio che si chiama Ronny che vedete nella slide e che è un criminale. Dunque, davvero Manni si trova in una situazione molto difficile. Questi due ragazzi Manni e Lola quindi lavorano per Ronny e avevano venduto una partita di droga il cui pagamento era contenuto in questa busta con centomila marchi. perché Ronny si trova in difficoltà? Perché naturalmente il criminale vuole che lui restituisca i soldi immediatamente. Dunque, Lola e il suo fidanzato devono assolutamente restituire questa somma di denaro al loro capo altrimenti vi è un grosso problema. allora utilizzando adesso il modello attanziale di Gremas possiamo assegnare dei ruoli astratti ai protagonisti della storia. Come vi ricordate abbiamo detto che il modello attanziale di Gremas presuppone un destinante e un destinatario. Allora, nella storia di Lola Corre chi è il destinante? Chi sarà il destinante di questa storia? Il destinante della storia è Ronny quindi il capo dei due ragazzi. Il destinante come ricorderete dalle lezioni precedenti ha un ruolo fondamentale perché stabilisce le azioni da compiere e anche attribuisce delle sanzioni. Dunque nella fattispecie del film della storia Dunque Lola Corre il criminale Ronny fa vendere una partita di droga a Manni per ottenere del denaro. Adesso nel momento in cui il destinatario decide di accettare l'incarico del destinante si stipola un contratto che Greimas definisce contratto narrativo tra il destinante e il destinatario. Quindi nella fattispecie della storia che stiamo dunque analizzando Manni che è il nostro destinatario deve rispettare l'accordo con il suo capo con il suo boss e deve dunque restituire i soldi che sono stati ottenuti dalla vendita della partita di droga. Dunque possiamo inserire anche come oggetto che è l'oggetto di valore i soldi con i centomila franchi la busta con i centomila franchi. Dobbiamo inoltre precisare che in questa storia particolare Ronny quindi il capo criminale è contemporaneamente sia il destinante che il giudice cioè il destinante e il giudice sono compresi nella stessa persona che cosa voglio dire il giudice voglio dire che alla fine della storia sarà il destinante in questo caso Ronny che dovrà emettere una sanzione che potrà essere una sanzione positiva o negativa a seconda o meno che Manning abbia rispettato il contratto quindi in questo caso la vendita della droga è la ricezione dei soldi dunque l'oggetto di valore quello che Gremas chiama oggetto di valore è rappresentato in questo testo in questa storia dalla borsa con dalla busta con centomila franchi dentro ora vediamo come collegare questa parte applicativa alla parte teorica qual è il punto che dobbiamo chiarire dobbiamo definire questa situazione che abbiamo descritto questa situazione relativa alla storia di Lola Corre dobbiamo definirla in termini astratti usando la terminologia di gray mass e in particolare usando quelli che gray mass ha definito enunciati di stato dunque se volessimo fare una fotografia dello stato iniziale di questo particolare film di questo particolare testo allora abbiamo da un lato manni e abbiamo poi i soldi quindi la busta con i soldi con i franchi dentro ora all'inizio di questo testo all'inizio di questa storia manni ha i soldi o non li ha sappiamo che manni dimentica questa borsa questa questa busta piena di soldi sul sedile di un treno quindi possiamo dire che manni non ha i soldi non ha la busta con i franchi ora se diamo a manni una determinata simbologia quindi associamo manni con un determinato simbolo che in questo caso sarà s2 e associamo alla borsa con i 100.000 franchi dentro un altro termine che è o che sta per oggetto in particolare oggetto di valore allora potremmo dire potremmo descrivere questa situazione iniziale con la terminologia di gray mass come segue che s2 è disgiunto dall'oggetto di valore va bene ora come vedete gray mass propone dei simboli particolari quindi usa una terminologia particolare che sono essenzialmente il modo stenografico e formale per descrivere questi concetti e queste situazioni in modo particolare questo segnetto che vedete il primo nel riquadro a destra significa congiunzione mentre la u potremmo dire sta per disgiunzione sicché se s è il soggetto ed o è l'oggetto avremmo dunque le seguenti formule la prima formula è che s è congiunto all'oggetto e si chiama infatti enunciato di stato congiunto l'altra formula è il contrario quindi s è in uno stato di disgiunzione rispetto all'oggetto quindi il secondo sarà definito come enunciato di stato disgiunto ecco allora come arriviamo alla definizione degli enunciati di stato dunque questo per quanto riguarda gli enunciati di stato spero che adesso la definizione e anche l'applicazione di che cosa sia un enunciato di stato sia più chiara rispetto alla lezione precedente dunque l'enunciato di stato abbiamo detto che fa una fotografia di una determinata situazione adesso però non ci resta che riprendere la seconda tipologia di enunciati come avevamo detto prima vi sono due tipi di enunciati narrativi l'enunciato di stato che abbiamo appena spiegato e poi gli enunciati del fare quindi dobbiamo occuparci adesso di questa seconda tipologia a differenza degli enunciati di stato che fanno una fotografia di una determinata situazione gli enunciati del fare invece mostrano delle trasformazioni quindi gli enunciati del fare hanno a che vedere con dei cambiamenti con delle trasformazioni e con delle evoluzioni all'interno di un determinato testo dunque riepilogando gli enunciati di stato riguardano la descrizione di una situazione in cui un soggetto si trova in congiunzione o in disgiunzione con l'oggetto di valore gli enunciati del fare invece riguardano le trasformazioni vediamo subito allora con un altro esempio che cosa significa una trasformazione visto che gli enunciati del fare riguardano le trasformazioni riprendiamo sempre il film che stavamo analizzando prima quindi l'ola corre abbiamo detto che nel film l'ola corre il soggetto è disgiunto dall'oggetto di valore in altre parole manni che è il soggetto non ha la borsa con i franchi dentro quindi manni è disgiunto dall'oggetto vediamo però che cosa succede in questa storia vediamo come si evolve il testo di l'ola corre quindi questo era il modello che abbiamo visto prima in cui si ha il destinante e il destinatario visto che manni si trova in questa situazione di difficoltà perché non ha più la busta con i franchi dentro allora manni si rivolge alla sua fidanzata quindi a lola perché si rivolge a lola per avere aiuto ecco allora che entra in scena lola come adiuvante del destinatario manni qual è lo scopo di lola in tutta questa storia lo scopo di lola è di aiutare il fidanzato manni a fare cosa a ritrovare l'oggetto perduto l'oggetto di valore che come ormai sappiamo in questo caso è rappresentato dalla busta con centomila franchi dentro ecco allora che lola farà in modo che vi sia che avvenga una trasformazione all'interno della storia quindi lola farà di tutto affinché nella storia abbia luogo un cambiamento perché vuole che il suo fidanzato si ricongiunga con l'oggetto di valore cioè che manni riesca a ritrovare l'oggetto perduto quindi in questo caso i soldi la busta con i soldi ecco allora che in questo caso possiamo descrivere questa trasformazione quindi il fatto che lola voglia che la storia cambi in qualche modo perché vuole che il suo fidanzato manni riabbia la busta perduta dunque ecco allora che possiamo descrivere questa trasformazione con il secondo tipo con la seconda tipologia di enunciati che gray mass chiama enunciati del fare dunque lola vuole che uno stato di disgiunzione si trasformi appunto in uno stato di congiunzione ecco perché allora la trasformazione consiste nel passaggio da uno stato di disgiunzione ad uno stato di congiunzione ora come facciamo a tradurre nella terminologia di gray mass questa trasformazione lo facciamo attraverso il ricorso agli enunciati del fare quindi scritto nella maniera di gray mass con la teoria e la terminologia di gray mass allora abbiamo due tipi di enunciati del fare che descrivono due tipi di trasformazioni il primo è una trasformazione di congiunzione perché di congiunzione perché il soggetto da uno stato di disgiunzione con l'oggetto dall'oggetto passa ad uno stato di congiunzione con l'oggetto stesso ecco perché si chiama trasformazione di congiunzione al contrario la trasformazione di disgiunzione rappresenta la trasformazione che va dallo stato in cui il soggetto è congiunto all'oggetto ad una situazione in cui il soggetto è disgiunto dall'oggetto questa è appunto la teoria ma mettiamo di nuovo in pratica questi concetti alla storia di Lola Corre dunque se applichiamo questo modello se applichiamo l'idea dell'enunciato del fare alla storia di Lola Corre avremo quanto segue allora diamo a tutti i personaggi i rispettivi nomi allora Lola diventerà S1 che sta per soggetto del fare il fidanzato di Lola quindi Manni diventerà S2 che è il soggetto di stato la busta con i centomila franchi dentro rappresenta l'oggetto di valore ora se Lola è S1 e il suo fidanzato Manni è S2 quello che dobbiamo raffigurare in forma schematica è questo cambiamento che viene innescato grazie all'Ola di cosa? del fatto che S2 da una situazione di disgiunzione con l'oggetto passa ad una situazione di congiunzione con l'oggetto in altri termini se prima Manni il fidanzato di Lola si trovava in una situazione in cui aveva smarrito il suo oggetto di valore quindi aveva smarrito la borsa con i soldi Lola abbiamo detto che farà in modo che Manni si ricongiunca al suo oggetto quindi dobbiamo descrivere attraverso gli enunciati del fare questa trasformazione dunque come vedete ho scritto che S2 da uno stato di disgiunzione con l'oggetto attraverso la freccettina quindi passa ad uno stato di congiunzione con l'oggetto questa viene definita trasformazione ora siccome è Lola che innesca questo cambiamento questa metamorfosi questa evoluzione nella storia allora aggiungiamo anche S1 come fattore come soggetto che innesca appunto il cambiamento quindi questa è la terminologia semiotica la terminologia astratta di Gray-Mass per descrivere questo testo per descrivere come viene innescato il cambiamento e la trasformazione all'interno del testo ecco allora che Lola avrà un determinato scopo da compiere che è appunto quello di far ricongiungere S2 Manni con il suo oggetto di valore la busta con i soldi questo scopo quindi quello che Lola vuole viene definito programma narrativo quindi il programma narrativo di Lola è far sì che Manni ritrovi i soldi e cioè che Manni si ricongiunga all'oggetto di valore che è esattamente quello che ho scritto con la formula che vedete in basso quindi in parole povere il programma narrativo è ciò che un soggetto vuole fare quindi il piano il programma che Lola si prefigge di fare Lola vuole aiutare il suo fidanzato Manni a ritrovare la borsa o meglio la busta con i 100.000 franchi dentro quindi come vedete si tratta di un linguaggio molto formale molto astratto quindi simbolico che dà la possibilità di descrivere sia stati nel caso degli enunciati di stato sia trasformazioni attraverso gli enunciati del fare adesso infine vediamo dove vanno collocati questi due tipi di enunciati all'interno dei livelli del percorso generativo del senso di attraverso di attraverso Grazie a tutti.